Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo video di Dragon Ball Spark in Zero Episodio personaggi, capitolo di Goku Oggi andiamo finalmente a iniziare la saga degli androidi Grazie Eccoli qua Valerono gli android 3 anni, giudice statetico, 12 maggio Vedo, c'è qualcosa che c'è C'è quello che c'è C'è quello che c'è C'è quello che c'è Poi la rene Vediamo che tutto è uguale Non lo puoi fare perché non c'è l'arena di Janempo Vuoi mettere la storia quella di... Nello spazio con la navicella del papa di Goku di Bardak contro Freezer Non lo puoi fare perché non c'è manco l'arena Cioè i veri Budokai Tenkai avevano pieno di arena, piena di storia, piena di personaggi Questa ha solo i personaggi Mi ha deluso un moso questo spazio, sto gioco Arena, storia, mi ha deluso Non è un Budokai Tenkai Non è un Budokai Tenkai Già vado per i coglioni, eh! E già vai a terra! Ma qua non ho già il suoco sotto! Ah, guarda qua non ha il costume volumino! Ho messo un barattuto contro massaggio! Non fai il seretrasporto comunque, fai tutti i coglioni! Cioè il seretrasporto l'aggangerà! Muori! Un super resistente! Penso selvaggio, vai! Certo! 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 È un piccolo massacrato... Oggi è un piccolo... ...è un piccolo! E poi da quello che è noto Non conviene neanche comprare i personaggi del negozio Perché molto spesso ve li sblocca giocando Quindi Vabbè che se li avete comprati vi danno i soldi Ma non si vede cosa è successo dopo? Allora se noi interveniamo andiamo nel what if Invece se facciamo aspetta vegete trunks Praticamente continuiamo Cioè va come dovrebbe andare la storia Quindi io penso Allora lo so però voglio intervenire Allora è più forte di me Voglio fare il what if Non ci posso fare niente Cioè dato che la storia ormai la sappiamo tutti Lo sconfiggeremo in un altro modo Il potente Cell Ma forse in questo modo sconfiggiamo direttamente Cell adesso Forse la storia è bella perché hanno messo queste cose Quindi hanno fatto una storia diversa Però Mangga mangga comunque è roba Vediamo un po' se muoio Si vede sempre dalla Serena di merda Ma la difficoltà è troppo alta o è un'imbrissermia? Vabbè contro mossa è un po' troppo per i gusti miei eh? Ma vuoi fare una cazzo di mossa? Ma vuoi fare una cazzo di mossa? Ma vuoi? 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 Fuori Fuori Allora Vi 1 che faccia? pensi che abbiamo ucciso Cell ahia abbiamo fatto una cosa brutta e abbiamo cambiato la storia di nuovo insieme ma se l'abbiamo salvato insieme Sì 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 non ho sbagliato tasto, non ho fatto la suprema non ho fatto la scuola 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 Grazie. Ok. E ti pareva? E dice che lui non combatteva. E' un'arena. Vabbè lo facciamo fuori subito, subito, da? Io non sono Super Saiyan, qua? Ma mi trasformo dopo, ho capito. Anche se secondo me fa più male questa. Mi posso trasformare, è strano. Allora, vai scarcissimo. Qu'è? 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 nel film della storia di Trunks che là erano veramente malvagi ma Grilin che è innamorato dell'android e anche qua è finita merda perché abbiamo fatto il Wotif Futuro Montevole hai completato il capitolo Futuro Montevole della saga di Goku e praticamente non possiamo più andare avanti perché per l'appunto abbiamo fatto un Wotif e non va avanti nella storia eh però qua c'è un altro Wotif qua mi sa che l'abbiamo già fatta quello che vedo aspetta sì l'abbiamo già fatta va bene per questo episodio è tutto ci vediamo alla prossima che andremo a fare la vera storia degli android cioè continuiamo da qua dove eravamo rimasti quando dovevamo scegliere se andare ad aiutare Junior e quindi sconfiggere la prima forma di Cell o entrare nella stanza dello spirito del tempo per allenarci alla prossima ciao a tutti da Tiger